si oh flame flame eh ti sei fatto i sordi eh ti sei fatto gli iscritti ti sei fatto tutto quello che era possibile e immaginabile che sognavi tra virgolette però agli amici non ci pensi più no a te interessano solo le viewers le views come si dice le views le visualizzazioni a te interessa salire continuare a salire 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 e salire cioè ti interessa solo quello questo video non è un video dissing perché non mi interessa dissare qualcuno anche perché non l'ho mai fatto quindi e poi se devo dissare qualcuno vado direttamente face to face e io lo dico in faccia questo video non è per fare visualizzazioni questo video non è per acchiappare iscritti che sono iscritti al tuo canale che a me non mi interessa anche perché questo video non è neanche monetizzato pensa un po' ma tralasciando quello sai cosa penso? penso che i veri amici non esistono non esistono perché un amico può essere reputato amico solo se ha un canale youtube ed ha tanti iscritti per poterti aiutare molto tempo fa ti aiutarono molte persone facevi dissing tra te e hide tra hide e te giusto hai incontrato rubino hai conosciuto tutubo adesso sono i tuoi fratelli solo perché hanno un canale eh dilla la verità probabilmente non farai neanche un video reaction o un video dove mi rispondi perché sai che con me visualizzazioni non ne puoi fare eh sì oppure lo farai solo per farmi capire vedi che io a me non me ne frega un cacchio delle visualizzazioni ricordati flame che youtube non è la vita reale youtube è un piccolo passatempo poi se più in là diventerai qualcuno ben venga però ricordati che gli amici non servono solo per le visualizzazioni o per registrare un video o per acchiappare iscritti gli amici servono sempre sia nell'ora del bisogno che anche quando non serve il bisogno ricordatele queste cose te lo dice uno che non ha un cazzo di iscritti su youtube e non mi interessa non mi importa però cerca di farti un esame di coscienza dentro di te ricordati ricordati non mi interessa neanche editarlo questo video perché ripeto non avrei non avrei motivo di editare un video dove non monetizzo quindi a prescindere da tutto ciò flame ricordati semplicemente una cosa non cercare le persone solo per registrare dei video o solo per acchiappare iscritti o visualizzazioni cerca le persone per la vera amicizia che c'è dentro di noi dato che a me ormai non mi cerchi più certo con me che cosa devi fare niente neanche per fare qualche piccola partita o su qualche altro gioco un tempo mi cercavi un tempo chiama chiama Dark che ci facciamo una partita su H1Z1 chiama Dark che ce la andiamo su GZA5 flame ricordati che gli amici servono sempre sia nell'ora del bisogno che anche quando non si è bisogno non cercare solo per il momento del bisogno sarà forse un giro di parole io giro di parole non ne faccio quindi ricordati una cosa flame youtube non è la vita reale ricordate ciao flame ciao